Non sono divertita tanto, è stato molto bello vedere i campioni dal vivo, anche perché molti non li avevo mai visti dal vivo, perché ho visto anche allenare a altre razze, quindi ho visto tante cose, quindi ho visto come si tratta di allenare bene, ho visto dei punti e diciamo divertita tanto. Ho iniziato sicuramente molto bene, mi sono divertita tanto a fare i tornei fuori, ho fatto molta esperienza, ho giocato ragazze forti e ho imparato moltissime cose nuove. Sì, abbiamo vinto io insieme a mia compagna Beatrice Gatti il doppio, è stato un momento bellissimo, perché diciamo era il secondo anno che stavamo lottando per vincere il titolo e sono stato molto contenta di essere riuscita, finalmente. Io trovo a casa tutti i consigli di Gibo che sicuramente servono tantissimo e poi ovviamente c'è delle settimane di allenamento che mi serviano tanto anche un futuro. No, no. No, no. No, no. No, no. Grazie a tutti